Oggi sono a caccia di salite sul montello e tra una ripetuta e l'altra ne approfitto per reidratarmi ed evitare i cosicali prestativi e ricordarvi l'appuntamento con la DJ Tri, la gara di triathlon che si terrà a Milano l'8 e il 9 giugno. Io ci sarò con Massimiliano Rosolino e il supporto di Herbalife Nutrition. Voi ci sarete? A proposito Max, come te la cavi sui pedali? Secondo voi ragazzi riuscirò a raggiungere Massimiliano Rosolino dopo la frazione di nuoto in bicicletta? Allenatevi, ciao! Grazie a tutti!